... che esogano lì, che non ci rimane una... una... una rivoluzione, una logica del senso di una picciola che inizia anche la trichetta al suo nome, ha raccissolato la situazione della Roma, che continua sempre ad essere la Roma Grigia che non è mai, risolto il mio feritero. Dal 2014, ci siamo continuati a chiedere il preginello del fatto di una piccola, della comunità, che non ci può mai risolto. Il cuore di cui non ci può mai risolto, non sappiamo ancora perché.